Ah ma fermi la musica, perché? No, cambio, cambio. Ma gli piace. Metto i drogs. I drogs? I drogs, scusa, scusa Luca, mi metti quel palo di Barry Ryan che si chiama Luisa? No, è il mio disco, è il mio disco questo, no. No, 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 no. Ma gli piace, gli piace, d'affetto. E va bene, non mi piace a me, ma ha scambiato per la servietta sta mano. I drogs.